Ok ragazzi, ci siamo, metto in silenzio sul telefono, che era già in silenzioso Faccio una seconda diretta oggi, se non sbaglio ho fatto un'altra stamattina Questa è veramente roba grossa, qui si parla di un qualcosa che vi regalo, frutto di esperienze di vita molto profonde E di anche un'intelligenza superiore, lo dico senza tante nanne Quindi fondamentalmente mi piace regalare ai miei amici delle conoscenze, frutto di anni di studio ovviamente Matto e disperatissimo Oggi parliamo di Dio, di universo, di metaverso, di multiverso, non metaverso scusate E del mindset che io sto adottando ormai da diverso tempo, anni e anni Che mi ha portato dove sono adesso e che non avete idea e neanche io c'è un'idea di dove può portarvi fondamentalmente Perché il mindset, come avrete capito dai miei precedenti dirette Fondamentalmente è il modo in cui noi vediamo la realtà Quindi ci plasma, ci orienta verso tutta una serie di esperienze appunto Che possono essere positive o negative Se io credo di farcela o di non farcela, diceva Henry Ford, probabilmente ho ragione All'essere l'uomo che crea la propria realtà L'uomo che decide, l'uomo inteso come essere integro, non come uomo maschio Attenzione Quindi, che significa il titolo di questa diretta? Filosofia applicata, no? Quindi, ogni esperienza è neutra Questo è il titolo di questo, anche provocatorio Di questo video che avrei aspettato ancora un po' nel fare Ma non me ne frega niente Queste dirette mi piacciono perché sono brutali Sono quasi quotidiane ormai E hanno anche un discreto successo Mi scrivono diverse persone in privato per ringraziarmi Che cosa significa? Poso anche la sette corde Così almeno do la massima attenzione a questa cosa L'essere umano è un essere duale Vive nella dualità E sperisce l'uomo stesso, la sua vita, l'universo In un mondo duale, fondamentalmente Ossia il bene e il male, il giusto e lo sbagliato Buono e il cattivo Tutte queste cose qua Quando in realtà L'essenza dell'universo Quindi l'essenza pura La coscienza pura Cioè Dio Fondamentalmente Il foglio bianco su cui si disegna Quello che vogliamo La nostra realtà È un'energia che non ha assolutamente nessuna connotazione Né positiva né negativa In alchimia Questo è un concetto molto conosciuto Che ovviamente Ha delle implicazioni mastodontiche Che possono essere applicate anche nel business Nelle relazioni Nelle esperienze di lavoro In tutto E che sblocca ovviamente le menti superiori Per raggiungere ovviamente dei livelli Di consapevolezza superiori Questo è il punto Ossia ogni esperienza è neutra Noi dobbiamo carpire questo concetto Anche facendo appunto delle varie esperienze Che come disse la mia cara Giulia Silvestri Mille anni fa C'è questo ritorno all'uno Quindi tutto è uno Tutto è un unicum Bellissimo Praticamente perfetto Elemento Evento Che non ha nessun tipo di connotazione Né positiva né negativa Semmai anzi Ha più una Connessione con la positività Che con la dualità Fondamentalmente In quanto L'energia divina L'energia pura Incontaminata Che possiede l'uomo al suo interno Anche se è corrotta dal male Tutte queste cose qua Fondamentalmente È un'energia creatrice Che ha una Plasmabilità neutra Ossia Ogni Io avevo anche un blog Anni fa Che si chiamava The neutral experience Quindi l'esperienza neutra E che ovviamente Ha delle implicazioni devastanti Solve et coagula Dicevano in latini Ossia Che era possibile Trasformare Le nostre esperienze di vita Anche volontariamente Che fanno parte Anche del nostro passato In un Bellissimo Esempio Di positività Anche se si tratta Di esperienze Molto negative In quanto Tutti i grandi terapeuti Coach Dottori Olistici Non Sono delle persone Che appunto Aiutano gli altri Nello scoprire Questa neutralità Dell'esistenza Ossia che esiste Un livello Che coincide Con il livello più basso Il livello più alto Che sono praticamente Identici Poi vi passerò Magari col tempo Dei video su questo In cui si combaciano Appunto Alfa Omega I due sessi L'androgenia Tutto quanto Dove Dio La purezza totale Appunto Della coscienza divina Non ha nessun tipo Di connotazione Né positiva Né negativa E quindi Può trasformare Ogni esperienza In un qualcosa Di Unico Io ho avuto Un trauma enorme Ci ho scritto Un libro E di conseguenza Sto guadagnando Anche Dei soldini Grazie a comunque Un'esperienza Molto negativa Tra virgolette Che comunque Mi ha insegnato qualcosa Se io riesco A trasformare Quell'esperienza Qui si parla Di concetti Molto Molto profondi Ragazzi Non è roba Da quattro soldi Nella mia testa Dargli una connotazione Non necessariamente Negativa O positiva Ok Quindi la dualità Bianco Nero Giusto Sbagliato Lavoro tutto il giorno Per pagare le tasse Divento miliardario Quindi questi due poli Che si scontrano Ma è una connotazione Di coscienza pura Di Appunto Divinità Dentro di te Ossia Il Cristo Tutte queste cose qua La coscienza cristica Sei in grado Di Trasformare Tutto quello Che ti succede In qualcosa Di positivo Se vuoi E lo ripeterò Un'altra volta Sei in grado Di trasformare Un'esperienza Negativa A livello Di significante Soprattutto Dentro di te Magari grazie Anche a un'altra persona Che comprende Questa legge suprema In qualcosa Di positivo I miracoli Insomma Fondamentalmente Non solo A livello fisico Che sono molto Molto rari Ma a livello Ovviamente Esperienziale Quindi persone Che riescono A Superare Le traumi Devastanti Come me E che diventano Comunque persone Di un certo calibro A livello personale Che Contemplano cose Abbastanza importanti Fondamentalmente E Se voi Sapeste Quello che Mi è successo Appunto No Questo inquinamento Psicofarmaci Cose Vane No Molte persone Avrebbero reagito In maniera Completamente Duale Ho sofferto Tanto La vita Non ha senso Blablabla Quello che In PNL Viene considerato Appunto La mappa Non è il territorio E quindi Questo potere Trasformativo È dettato Proprio dal fatto Perché non esiste Ad un livello Di consapevolezza Supremo Che è Quello Della fisica Quantistica E degli angeli Che si ovviamente Congiungono Quindi del Alfa e omega Il cerchio Tra virgolette Non esiste Il positivo E il negativo Non esiste niente Esiste una purezza Praticamente Incontaminata Dove Che sostiene L'universo Praticamente Ogni esperienza A livello Energetico Esperienziale Appunto È neutro Questo è il mindset Che io sto adottando Su me stesso E che mi permette Di plasmare Ogni tipo di esperienza Che mi capita Dalle rotture di coglioni Per quanto riguarda L'azienda Persone da licenziare Persone da assumere Problemi La voglia Di fare le scale Con la chitarra Fino ovviamente A Dare il significato Che voglio io A qualsiasi tipo Di esperienza Anche riguardante Il passato Come fossero Delle piccole Grandi lezioni Di vita Che io posso Prendere Per me stesso È un concetto Molto Avanzato Che ovviamente Quasi nessuno Può capire A meno Le persone Dalla mentalità Rigida Poco soft Poco malleabile E anche poco profonda Non potranno mai capire Che significa Dire Cavolo Magari ho fatto Un gravissimo incidente Come faccio A io A vederlo Come qualcosa Di positivo Essendo una cosa Che magari Mi ha distrutto Una macchina Che ho pagato 50.000 euro Fondamentalmente Ma a livello Energetico Quindi spirituale E proprio Di significante Quell'esperienza Non ha Alcun tipo Di connotazione Né positiva Né negativa È neutra È un qualcosa Che esiste A prescindere Dal giudizio Che noi gli diamo Quindi che Il più grande dono Che possa mai esistere Da parte di Dio Tra virgolette Perché Sei tu Che decidi Come intraprendere A livello Conoscitivo Esperienziale Quel tipo Di esperienza E quindi Trasformarla In qualcosa Di positivo O qualcosa Di negativo Dipendentemente Da quello Che vuoi I grandi Imprenditori Le grandi Storie Delle persone Di successo Di successo Appunto Non esiste Il successo Il fallimento Esistono Degli eventi Neutri Che noi possiamo Interpretare Come vogliamo Quindi fondamentalmente La non dualità Qui si parla Di concetti Ragazzi Veramente Superiori L'uomo vive In questa dualità Da milioni di anni Ovviamente Perché è stata Una scelta sua Una scelta propria Ma allo stesso tempo Recuperare La non dualità Del divino È una scelta Anche questa Personale È un'esperienza Iniziatica Ovviamente Molto molto interessante A meno che sto attraversando Io al momento Ossia Carpire in ogni persona In un certo qual modo Quello rispolvere un po' Questo in un certo qual modo La assoluta L'assoluta comprensione Verso gli altri Quindi essere persone Coraggiose Persone Generose Che si danno Agli altri Persone Che aiutano Le altre persone Nel loro Intento Di arrivare Al successo A un benessere Tutto quello Che volete Insomma Perché ogni esperienza Che voi siate La persona più ricca Del mondo O un povero Nelle favelas A livello energetico Nessuno si stacca Da Dio E nessuno si stacca Desurse Questo è il significato Del nome del mio gruppo Storico Inarrivabile Insomma Desurse Nessuno è fuori Da questa energia cura Perfino il diavolo L'inferno I demoni Tutti i sacrifici umani Che hanno fatto Fino adesso Con le guerre Sono esperienze Intrinsecamente negative E qui ovviamente Si spiega A livello Non solo Storico Gnoseologico Ma si spiega A livello proprio pratico Come possa Dio Tra virgolette Trasformare l'acqua in vino Quindi cambiare La natura delle cose Perché In realtà A livello genetico E a livello vibrazionale A livello totale Non esiste Alcuna connotazione A livello Di semantica Proprio quasi Positiva o negativa E' tutto Una Neutral experience Un paradiso Di cui ci siamo dimenticati Forse dell'esistenza Che è eterno Insomma Dentro di noi Che è un piano eterico Un piano astrale Tutte quelle robe lì Fondamentalmente Da cui però Noi possiamo In questa esperienza Duale Poter Attingere Per cambiare Il senso Delle nostre esperienze Io Non vivo più Da anni Da quando ho carpito Grazie tantissimo Studio E introspezione E anche Diciamo Senza tante danni Un'intelligenza Particolarmente Spiccata Uso questo Eufemismo Me ne sbatto Il cazzo Dei cattivi Invidiosi Me ne frega niente Questi diretti Sono brutali Così devono essere Io non penso più Al bene Al male Come diceva Nietzsche Parliamo un po' Di filosofia Di storia La filosofia Oltre il bene E il male Qui si parla Di un livello Esperienziale Appunto Spirituale Che ti permette Di sopportare Il dolore Di sopportare Una perdita Di cambiare Il senso Di un evento Come vuoi tu Una macchina Che si sfascia Potrebbe essere La cosa migliore Che ti possa capitare In un piano divino Come vincere Il supernallotto Ti potrebbe portare All'autodistruzione Quindi conseguentemente Il grande architetto Qui è un termine massonico Ma in realtà Il grande agricoltore Cioè Dio Piazza De Pedine In maniera tale Che ci sia Questo bene supremo Ossia La riscoperta dell'uno Il fatto che non esistano Le divisioni tra le cose E non esista Alcun tipo di Non dualità Fondamentale Di dualità Scusate Quindi La non dualità È proprio una mentalità Che riguarda anche La non località Ovviamente Insomma Ne ho parlato già In un altro video Di questo argomento Molto molto profondo Che ovviamente Riguarda Un certo tipo di Indagine Che uno deve fare Con se stesso Cioè capire appunto Che La vita meravigliosa L'universo è infinito Non esiste Alcuna divisione Tra le persone Le cose E il creatore Dio Che esiste Ve lo dico Per esperienza personale Me ne sbatto Il cazzo Se uno dice No ma non è vero La chiesa Quello Non c'entra nulla La chiesa Non c'entra niente Paparatzinger Sono tutti Dei vampiri energetici Che sono qua Per altri scopi E La purezza Eterna Dell'esperienza neutra Quella che vi ho cercato Di spiegare Con questo video È Che l'uomo Ha Questa Deep connection Questa connessione Infinita Con il divino Dentro di noi Che è appunto Dio L'altissimo Che sta lassù Che veglia su di noi E che ci ha dato La possibilità Di creare Da tutto Lo schifo Che possiamo Esperire In questa vita Anche La cosa più Tremenda Fondamentalmente Possiamo trasformarla Dipendentemente Da quello Che vogliamo noi Ossia In qualcosa Di meraviglioso E che ci può Insegnare tanto Come Malanga Ha detto Nel suo video Sulla PNL La persona Che magari Sta morendo di fame In quel momento È più vicina a Dio Di un multimilliardario Questo è il punto Che Come un harem Di donne bellissime Perché quella persona Che sta morendo di fame Magari Ha scoperto Dentro di sé Un certo tipo Di significato Che quella persona Stramega miliardaria Che morirà a 120 anni Non avrà mai E finirà simbolicamente All'inferno E ovviamente Quello che diceva Bill X Qui chiudo la diretta It's only a choice Right now Between fear and love Quando in realtà Non esiste Alcun tipo Di divisione Tra di noi Tutti noi Che siamo qua A esperire Questa magnifica Esistenza E non esiste Alcun tipo Di divisione Da The source Cioè Dio E Dio È un essere supremo Ovviamente Benevolo E saggio Che ci ha Donato Una Energia infinita Lo possiamo Gestire come vogliamo Esistono anche Entità negative Che sono Coltivano Un'illusione Di poter Dividere Il diaballo Il diavolo Eccetera Ma non ce ne frega niente Perché siamo noi A decidere Se le nostre esperienze Sono belle o brutte Perché le possiamo Trasformare E le possiamo Ovviamente Dirigere come vogliamo